Dragoni, il punto secondo me è molto semplice da capire, effettivamente per la prima volta c'è un'immissione di denaro nell'economia europea, questi sono i fatti, che punta a uscire da una situazione di stagnazione, cioè fa risalire l'inflazione moderatamente, perché poi l'inflazione è una cosa negativa, probabilmente il problema è che comunque, come faceva notare Landini, il debito è ancora garantito dalle banche nazionali, tu ci spiegherai che cosa, raccontaci in maniera un po' più fredda questa vicenda, perché secondo me è estremamente importante per capire quello che sta succedendo e probabilmente la visione che ho io è questa, cioè che sul breve l'operazione di Draghi ha questo valore, questo significato ed è storica, perché la Merkel prima non l'avrebbe mai accettata e effettivamente questo è un fatto, alla lunga non è detto che sia un'operazione che riesca, però in questo momento è una delle poche giocate di classe, di un fuoriclasse sulla scena europea, sentiamo. Mario Draghi sarebbe il candidato a Presidente della Repubblica che potrebbe mettere d'accordo un ampio schieramento da Scalfari fino a Berlusconi e gode anche di prestigio internazionale, ma Draghi non è disponibile, non voglio essere un politico, ha detto, è importante il mestiere che faccio, cioè vuole rimanere alla BCE a completare il suo mandato di Presidente fino a ottobre del 2019. Al vertice della Banca Europea Draghi ha una posizione strategica, come mostrano anche le importanti decisioni storiche che sono state prese oggi. Draghi ha resistito, resiste da tempo alle pressioni fortissime della Germania, i tedeschi di cosa hanno paura? Temono di dover pagare anche i debiti dei paesi del sud Europa, quelli che secondo loro sono le cicale, ci siamo anche noi. Non vogliono condividere il debito che sarebbe... I tedeschi vogliono solo i vantaggi dell'euro, come hanno avuto, ma non vogliono i rischi o i costi. Quindi non vogliono pagare i debiti di chi, direbbe la Merkel, non fa i compiti a casa. E Draghi ha replicato che senza l'euro staremmo tutti molto peggio, sia al nord, sia al sud. E la BCE non è responsabile per un paese, ma per 19, quanti sono i paesi dell'euro. Oggi cosa è successo? La BCE ha deciso che in Europa ci sarà una misura straordinaria monetaria, il QE. Che cos'è? Non è il quoziente di intelligenza, ma il quantitative easing. Significa un alleggerimento, un allentamento quantitativo. È una manovra monetaria che potrà arrivare fino a 1140 miliardi di euro. Dalla BCE partirà un'onda di liquidità al ritmo di 60 miliardi ogni mese, da marzo. E questi soldi, a cosa serviranno? Verranno usati per comprare titoli del debito pubblico, quindi dai paesi europei, anche i nostri BTP, i CCT, a certe condizioni. Qual è la conseguenza? Ci saranno più soldi in circolazione e questo dovrebbe favorire gli investimenti e l'occupazione e consentire ai paesi, soprattutto quelli più in difficoltà, di gestire meglio il loro debito pubblico. Perché? Perché i tassi di interesse sono destinati a scendere, quindi pagheremo meno interessi. La BCE per fare questo dovrà stampare moneta. L'euro si svaluterà e questo renderà più competitive le nostre merci, aiuterà le esportazioni. Infatti è bastato l'annuncio di questo programma, che è partito già l'estate scorsa, che da agosto l'euro rispetto al dollaro ha perso il 12,6% e oggi appena c'è stato l'annuncio è andato giù ancora l'euro, mentre la borsa è salita. La Bundesbank era contraria fino all'ultimo, perché il timore è che questa alluvione, inondazione di liquidità, tolga la pressione ai paesi più fragili a fare le riforme. Draghi ha dovuto accettare un compromesso con la Germania, infatti l'80% del rischio per l'acquisto di questi titoli sarà a carico dei paesi e il 20% sarà a carico della BCE, però qui faccio presente che la Germania voleva che il 100% del rischio fosse a carico dei paesi, quindi ha avuto il 20 rimasto. E poi c'è una cosa, si parlava di un'operazione da 500-600 miliardi, invece Draghi ha ottenuto di raddoppiarla, quindi in realtà questo 20%, se lo misuriamo su tutto il periodo è come se fosse quasi un 40% rispetto all'inizio. Quindi per capirci anche i titoli di Stato italiani che saranno comprati saranno per l'80% a carico della Banca d'Italia, cioè una garanzia anche sulle nostre tasche. Funzionerà? Negli Stati Uniti ha funzionato questa manovra, perché in sei anni sono stati spesi però 4.500 miliardi di dollari, quindi una somma molto più alta. Il PIL è ripartito e la disoccupazione è diminuita. Non è detto che in Europa accada altrettanto, dipenderà anche dalle banche e tante altre cose, ma se non funzionerà, tra 19 mesi, come hai detto tu Michele, ci troveremmo con un debito ancora più alto. Questo è il rischio. In Germania sarebbero molto contenti se Draghi andasse via dalla BCE e proprio per questo, per l'Europa e per l'Italia, è un bene che rimanga lì. Il compito del Presidente uscente napolitano è stato quello di garantire insieme a Draghi il rispetto degli impegni presi dall'Italia. E ora chi garantirà?